Il caldo non dà tregua, basti pensare che sui monti del Partegno la notte scorsa ha avuto caratteristiche tropicali. L'osservatorio è registrato una minima di 25.7 gradi, in vetta di 25.4. Una blanda ma costante ventilazione e arreso l'aria particolarmente calda anche sulla fascia pedemontana, emblematici quasi 30 gradi che si sono registrati a su un monte intorno alle 3 del mattino. La protezione civile conferma la difficile situazione annunciando che proseguono le ondate di calore con temperature intorno ai 40-41 gradi fino a sabato prossimo. È stato infatti prorogato l'avviso di ondate di calore almeno fino alle ore 14 del 22 luglio. Su tutta la regione si prevedono ancora temperature molto a di sopra dei valori medi stagionali, circa 7-9 gradi in più rispetto agli standard del periodo, con valori che potranno superare i 40 gradi e un tasso di umidità che soprattutto nelle ore serali e notturne potrà superare anche l'80%. La sala operativa regionale invita i sindaci di tutti i comuni interessati e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relativi alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Si raccomanda di non riuscire nelle ore più calde della giornata, particolare attenzione verso i cardiopatici, gli anziani, i bambini e tutti i soggetti a rischio.